Arianna Grande e Pete Davidson si sono lasciati praticamente ad un passo dalle nozze La coppia ha interrotto la relazione d'amore alcune settimane fa, dopo un periodo molto nero da parte della celebre pop star Dopo la morte di Mac Miller, il rapper ed ex fidanzato di Arianna, le cose per lei sono andate sempre peggio Evidentemente, questo periodo nerissima ha inciso pure sulla sua attuale relazione, tanto da volerla interrompere Così come ha confidato TMZ, pare che Arianna abbia subito ridato indietro l'anello di fidanzamento a Pete Il comico del Saturday Night Live invece, ha immediatamente provveduto a coprire il tatuaggio disegnato sul collo dedicato alla sua ex Di recente proprio Davidson, ha deciso anche di rompere il silenzio sulla relazione che lo legava ad Arianna Sicuramente saprete che noi ci siamo lasciati o quello che è ma prima eravamo fidanzati e c'eravamo fatti dei tattoo e c'era un giornale che diceva, Pete Davidson è stupido? E il 93% aveva risposto sì Un mio amico mi diceva, non ascoltare questa roba, sono haters. Ma all'altro giorno mi ha detto, ok fratello, alla fine è venuto fuori che sei stupido, ha confidato al programma già The Pete for America Arianna e Pete, gli ultimi gossip sulla rottura.Secondo i rumors che giungono da TMZ, dopo avere raccolto svariate indiscrezioni da parte di alcune fonti molto vicine, pare anche che il fidanzamento tra Arianna Grande e Pete Davidson non sia stato mai nulla di serio, o almeno, non aveva quella importanza che invece è arrivata al pubblico e gli estimatori di entrambi La proposta di fidanzamento così come l'anello in regalo, ci sono chiaramente stati ma l'ex coppia non avrebbe mai preso seriamente in considerazione l'idea di mettere in piedi il progetto che li avrebbe condotti alle nozze Arianna e Pete infatti, non avevano ancora deciso alcuna data ufficiale e nemmeno la location del matrimonio e gli invitati alle nozze A quanto pare quindi, il loro progetto di vita insieme non sarebbe stato poi così imminente come invece si poteva pensare Secondo ciò che invece scrive People, ci potrebbero essere delle possibilità di un loro ritorno di fiamma, verità oppure solo un'illusione Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like